E ciao a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Kingdom Come Deliverance Allora ragazzotti, nello scorso episodio che è stato trasmesso in live Abbiamo fatto tantissimi progressi E ci siamo guadagnati la fiducia del parroco che è qua davanti a noi La notte è stata un disastro, cioè E' stato uno schifo letteralmente E adesso, che siamo entrambi messi malissimo, dobbiamo andare a recitare la messa Oh, fatemi vedere, non avevo mai visto questa cosa qua Umbriachezza, ok Allora, fatemi mettere la mia armatura Oddio, oddio, tutto il mondo si muove Oddio Ecco, dalla sopra lui ci ha sboccato, dalla sopra Ok, dobbiamo recitare il sermone in chiesa al posto di padre Godwin Ok, allora, vediamo Ok, allora la faccia di Henry l'accepit panem in sanctas ad veneribiles a manus sullas oh mio dio l'accepit in meam commemoration l'accepit l'accepit capito potete aver avuto l'onore di incontrare Henry da Scalitz che è qui a behest di Sir Hanush per investigare questo fai fai a noi che questo l'accepit where by the grace of God was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard because as you all probably know Jan Hus is a very popular preacher in Prague so Henry you may begin oh Cristo che risu vomiterà per primo oh mannaggia vediamo un po' se mi ricordo inizio un sermone conciso con un atteggiamento sicuro brothers and sisters let me get straight to the party I'd like to talk about the church and how corrupt it is that boy has a cheek successo ok abbiamo il dovere di allontanare i preti e Dio governare il mondo ok so we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments hear that Godwin ops atteggiamento severo ok ok the earth that the church is drowning in and the prelate sin and give themselves absolution for shame shame upon them it is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin but what do they know of us ordinary folk let us remember the marriage at Cana where our lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill and when the wine was gone he performed a miracle and created more he whose companions were poor travellers simple folk prostitutes and troublemakers performed a miracle so the feast could continue now that's the kind of sermon I like to hear no brothers and sisters Jesus did not condemn alcohol drink to lighten the cross you bear in this veil of tears but not with such abandon that you cannot keep holy the sabbath for there should be moderation in all things and it is che è successo che è successo ok signori siamo di nuovo siamo di nuovo qua non so per quale motivo ma a quanto pare boh si è rotto qualcosa e non ha funzionato quindi boh dobbiamo rifare stavolta schippiamo però è strano ragazzi è strano imbecille sono aiuto cioè dobbiamo letteralmente andare nello stesso posto ok riaccoci sarebbe da schippare salta scena salta scena salta scena perché l'abbiamo già visto ok atteggiamento sicuro ok ok per cui potrebbe regalare il mondo, ma questo potere non ha dato il righte di regalare, questo è il righte per lui, 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 per lui. Almost the whole of Christendom When dogs are fighting over a bone Take the bone and they will stop Just like the flock of ravens That has descended on this land To pek up every speck of gold and silver They show no mercy Their hearts are poisoned By covetousness They trade everything Everything is for sale You want to baptize a child? Pay You want to steal and murder? Pay And you will have absolution And the prelate sin and give themselves Ok Peccato e umano L'abbiamo già detto prima Ora, questo è il tipo di sermon che mi piace sentire No, fratelli e sorelle Beh, ci devono essere moderazione in tutto il fatto Ok, eh Atteggiamento severo C'è enough about sin Which the prelate are so fond of preaching about And whose absolution they promise If you only pay enough coin to mother church What if the devil himself were to pay Will the bishops tell us he too would ascend to heaven And what about those bishops They sin without remorse And with the money grasped from the poor for indulgences They keep fine horses and hordes of servants to pamper them They play dice and garb their mistresses in expensive furs While Christ, the Lamb of God Walked barefoot and had nowhere to lay his head Look to your consciences, you robbers of the poor For you are seen by God and his people too Down with the prelates, away with them We're fortunate to have our good father God win At least he's a fair and simple man God sees what is happening on earth And he is filled with righteous wrath That those who should seek the salvation of souls Instead seek mammon And the idle comfort of lucrative posts Blessed are the shepherds Who share the poverty of their flock Who are as one with you And bear with you the burden of this earthly pilgrimage Who do not condemn your venial sins I, all honor to Godwin Let him drink like one of us That is all I have done in Prague Amen Oh, ragazzi, è andata È andata È andata pure bene A parte che ho sbagliato all'inizio Adesso qualcuno sbocca Andata Ora, informazioni Aye Well, well, my boy You have talent And I can't deny it And you pulled a thorn from my side I almost didn't make it Yeah, I noticed I wasn't the only one Oh, what's to be done? I'll make it up somehow So About our bargain Although it's a sin So gluttony And fornication God does forgive a penitent So What did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down I'm sorry, but he didn't tell me that much Don't let me down after all I've been through For you Well Now, Lubos came to me shortly after it happened And his conscience was gnawing at him And I must say In the end, he turned out to be a better man than he looked Yes, did they? He said They'd been hired through some crony of theirs And at first they were just to steal some horses But then it all turned sour And people started getting killed And neither he nor his cronies Wanted anything to do with that So they fell out from the gang and fled Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof That would explain something Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer That he didn't want to do it So I know that Lubos killed the murderer And he's dead too The trouble is I need to find the ones who are still alive I need names and places Did he mention any of the others? Only nicknames Talked about some fella called Riki from Lodechko Pious Timmy Pious That lot are about as pious as I am ordained Nonsense You would make an excellent priest And anyhow With your skills you ought to be able to sniff out this Riki from Lodechko, right? Well we'll have to now There's not much else to go on Let's hope he's not hanging from the wall too Indeed And I'd hate to be excommunicated for nothing Anyhow Good luck You watch out for yourself These people clearly mean business And I'd like to raise a tanker with you again sometime Yeah, I'll try Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery And if anyone should ask You heard nothing from me I'll deny everything I don't doubt it Ottimo Quindi è andata meglio del previsto Circa Più o meno Anche se il previsto era molto basso Però, però, ce l'abbiamo fatta Quindi adesso dobbiamo cercare Il fetido Al Lecce Lecce Del Del Ok Avete capito il nome Allora Oh, il mio cabaino Allora Rintraccio il fetido Però prima mi do una sciacquata Come hai potuto il trovolo Va bene Andiamo Con ancora i postumi Come solo noi sappiamo fare Allora Vediamo un attimo Dove dobbiamo andare Oh god Quanto è lontano Facciamo che andiamo Qua va Al murino di Rattai Così vediamo un attimo Anche in che condizioni siamo Se dobbiamo magari mangiare Bere o dormire Ma non credo Veramente Ci facciamo una Bella Gita A cavallo E poi andiamo verso Quel paese Lecce Quello Avete capito Allora Spero di non incontrare Banditi Perché stiamo passando In un In un bosco Zero Ok Con la nostra condizione Un po' bassa 67 Vedremo se poi vale la pena O magari se vogliamo Metterci a dormire Che succede Che succede Così a caso La musica è cambiata Evita Nemico Schiva Fallimento Fallimento Eppure non mi sono fermato Va bene Va bene Va bene Va bene Vediamo un attimo Magari ci ha seguito Magari Vediamo un po' che non meno le mani Su Su Kingdom Come Si dice Meno le mani Non credo Non è uscito così Una scorreggia del cervello Allora Scendiamo un attimo Prima di tutto ci siamo ripresi anche Il che è ottimo Questa è una menta Vediamo la menta Vediamo l'altra menta Ok basta Allora Vediamo un attimo le nostre condizioni Energia condizione 63 Sazietà 75 Potremmo anche semplicemente mangiare due cose Ciao Pshack Sì che Dio ti conservi Vediamo un attimo Allora Vediamo un attimo Vendi Armi Spada 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 Vediamo questa Ok allora poi Collare Vendiamo Cibo No Oggetti chiavi Altro Allora No abbiamo ben poco Veramente da Da vendere Però Mi sa che ho rimosso qualcosa Per sbaglio No sapete cosa Siamo abbastanza Messi bene ancora Per poter andare Quindi andiamo Allora Dobbiamo andare Vediamo un attimo Vediamo un attimo Potremmo andare di qua E poi probabilmente andare a sinistra Anzi di qua Sì dai Perché sennò Potremmo passare anche dall'altra parte Ma niente Ok quindi di qua adesso a sinistra Sinistra Caballo E adesso da qua A sinistra Ok di qua Ma che bel posto Ok adesso appena troviamo una straga Ma a sinistra la prendiamo Forse era questa No questa Aha Ma che bei campi di fiorellini Dai caballo Andiamo Wow Bosco Io ragazzi Sono sempre più stupito Dalla bellezza Di questi campi Cioè Dei paesaggi in generale Non solo dei campi Eh Suvi la strada Caballo Eh Ok Allora Dalam Così pare Eh tagliamo per i campi Ops Va bene Le 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 Cecco Le Le Capito Proprio quello Quindi cos'è che dobbiamo fare? Chiedere Belle le texture che non caricano Buongiorno C'è I'm looking for someone they call Riki That's the tenor son What can I find Hard to say He's not around here much Thank God for small blessings You could try his folks place Ok e quindi immagino sia qua abbiamo trovato il fabbro eccoti qua ciao bello come se non ti spacco la faccia più o meno oh mio dio oh mio dio ok 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 ancora ok 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 bene dai possiamo provarci forse no eh no dobbiamo dobbiamo chiedere altro ok 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 perfetto perfetto alla locanda quindi la locanda è la locanda sarà immagino vicino la locanda la locanda lo sopra ok 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 dai 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 henry dov'è la locanda non è questa non è questa assolutamente no andiamo a cercare andiamo a cercare la locanda dai non è proprio la giornata delle staccionate non è proprio la giornata delle staccionate regati dalle palle cane eh vabbè non si dice mai di una possibile sfida vatic oh no no iam Henry scali scali iam vatic from here it's just that i sometimes try my hand at archery too try your hand do you I know plenty who do when you can score as high as I've got no idea what you Never played Chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner, unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most... always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just one or two blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll supply the arrows with colored fletching. Un'altra volta, però. Sounds interesting. Maybe some other time. Well, if you ever want to gamble away pots of money, just ask. Va bene, ciao. È una piccola divagazione. Ci starebbe a provarlo magari una volta. Devo tirare le palle. Oh, siamo arrivati. Locanda! E ho sbagliato, fatemi indovinare. Perché dall'altra parte, questi sono i bagni. Ok. Cosa che non mi dispiacerebbe, effettivamente. Calendula. Vieni qua. Ci si fa l'infuso con la calendula. Eh sì. Non so se c'è magari un elchimista qua, non credo però, purtroppo. Allora, parliamo con... Te. Ok. Ok. Oh. 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 Eh. Qua? Qua? Buongiorno. Questa qua non è la più promettente Perfetto Allora Vieni qua cabaio Un po' più veloce dai cabaio Allora Mappa mappa Dobbiamo provare No non questa Cavarano sulle colline Promontorio Non ce n'è altre No pare non ce ne siano altre Andiamo un attimo a vedere Ok Si trova sulla riva sinistra del fiume Sassau Nei boschi dietro alla forgia Vabbè ragazzi Io direi che partiamo con Allora Vanni tutti Qual è quella Il boschi dietro alla forgia Cosa qua mi sa che è Quindi è la C Partiamo dalla C Ok Allora Let's go Ok Qua Qua Non so quanto possa essere lontano Effettivamente Quindi Ok Eccola qua Mi pare non ci sia proprio niente Non c'è decisamente nulla Quindi Non è qua Giusto come conferma Controllo Yes Niente Quindi la prossima Mi sa la D Perché pare essere più vicina Yes La D Dovremmo attraversare il fiume Probabilmente Dai 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 Cerchiamo se c'è una parte Che si può attraversare Perché è proprio dall'altra parte Tipo là dietro Dai manco una zona con un ponte Ma non ce voglio credere mai Ah ah Si è rotto Dai cabaglio Riprendi fiato Dai Non ci credo Omi ci lancio in acqua Vi giuro Ok niente Scusa cabaglio Laggiù Trovato Non cadere giù L'ho visto Qua Perfetto Mi è caduto il cavallo Ok Siamo arrivati quasi Che bel bosco È bellissimo Eccoci Ok Niente Eh si Purtroppo nulla Eh quindi Saremmo fortunati Per esclusione Con l'ultimo Che sta a vedere Pure quella più lontana Ovviamente Vabbè Andiamo Ci fa desiderare Questo qua Oh Oh Sei alto Da qua Ma tanto qua I cavalli funzionano Peggio Di Skyrim Era un albero tagliato Bravo Una testa Scusate Ok Dritti verso la meta Ok Facciamo le vande Questa è una strada O un campo No Un campo Sali Tra poco sarà Tipo esausto Ma noi ci siamo quasi Dai caballo Dai Credo Volo Ok Piano 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 Caballo Bravo Bravo Dai Scendi in prima Ok Adesso accellere di nuovo Bravo caballo Wow C'è strano Ok Sì Qua è il bosco di ratta Noi ci siamo quasi Aggiungerei Ok Dai Allora qua dietro Circa Mio meno Eccoci qua Aha Eccoci qua Allora Pare proprio che sia quella giusta Ah Filmato Ok Una foglia fantasma Jesus Christ What am I to do Not that I can expect any useful advice from you At least you have no more cares Need someone to talk to Fuck Don't kill me I can explain I won't tell anyone I swear I've no one to tell anyway Just please don't kill me I'm not planning to kill you You're not one of Runc's men No Then who are you Shut the fuck up That's not important The important thing is We have a common foe Considering all the enemies I have The odds of that are pretty high I'm talking about the gang That raided the Neuhof stud farm I know you were there I was But I've got nothing in common With those bastards I'll take your word for it Providing you tell me what you know I don't know why you should care If it keeps my neck out of the noose I'll spill the bees That Neuhof raid of yours Didn't turn out quite as planned Did it? Depends on whose plan you're talking about We were up to it To grab some loot And bugger off Only Runc's cutthroats Was there to shed blood What do you mean Runc's cutthroats? There were two gangs there Mine and Runc's We was only there to steal But they wanted to slaughter everyone But when you realised What they had in mind You didn't have to go along with it Did you? But we didn't know nothing Even though we were going to Neuhof They told us to keep watch On the courtyard While they were cutting The horses' throats Jesus That fucking vexed me Their horses Was the most valuable thing there When I spoke up though Runc gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut And when they said We was going to kill anything But moved Then we knew There was no going back Uh, okay Who got your two gangs together? You must have made contact somehow, right? Pius He comes to us And says he's got this prime job We're going to rob a farm He says That was a big deal Because mostly we just did small stuff A hold up on the road Now and then Nothing fancy When they told us How much we could make on it Well We just couldn't refuse Said Pius knew them I suppose But I don't know where from We even got paid up from I should have known from the start It was too good to be true That gang of yours What can you tell me about them? Don't know what you want to know There was four of us Me Timmy Limpy Lubos And Pius Pava Sometimes we'd rob a place Or hold up pilgrims Never nothing fancy I'm sure you did mischief enough Who led you? Pius He was the oldest And he'd mostly find the jobs for us Planning and the like He got us into that fucking mess And no idea how to do About the others Timmy's strong as an ox With a brain to match You got more sense out of a fence post And Limpy I've been with him the longest He's my one and only friend I suppose Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy Right? Yes But he's no use to me now Tell me where I can find Pius or Timmy I don't know nothing about Pius He vanished in the woods And I haven't seen him since Timmy I reckon went back to the mill where he works Which mill? The windmill a bit north of Noyov Ok E adesso chiediamo invece della banda di Runt I don't suppose you know where they got to after the raid On the way to Noyov Timmy told me he was at their camp With Pius I reckon that's where they've gone now Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods He didn't say nothing more Thing is Timmy's got quite an imagination But Pius roared at him to shut it So I reckon there must be something in it Ok Did you know any of Runt's people? Not a while They didn't talk to us at all None of their faces was familiar even The only thing I know is They called that huge chief of theirs Runt And Pius warned us to watch out for him Eh, ha fatto bene Boom, a posto That's all I need to know So now what do I do with you? Well Nah Shhh Oh shit Runt's people We've got to get out of here They're too close We'll never outrun them Fuck At least they don't know I'm here The two of us can take them by surprise No fucking way I'm gone Lucky If you run They'll catch up with you and kill you And me too Together we stand a better chance Oh jesus Vediamo bene Perché la nostra spada vi ricordo fa ancora pena I suppose you're right Una spada corta non fa troppo danno Quindi dobbiamo attaccarli Però io non ho ancora equipaggiato nulla Ok Armi Allora Di questo Non sarà in grado Vediamo No soltanto questo Si forza minima Eh questo qua che posso utilizzare E con le frecce perforanti magari Però noi adesso Ok Oh ragazzi Sono troppi Uh uh Aia 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 Buoni tutti Buoni tutti Cioè questo qua che è buono eh Uh bene 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 Ah un attimo Un attimo Ragazzi Nivello principale Buoni tutti Allora Questo qua No no Marchio del rinegato Cittadino Primo soccorso 2 Eh questa non è male Brutto Eh cioè ricognitore 2 Che è buono Primo soccorso 2 E asceta Ehm Prendiamo primo soccorso 2 Però nelle abilità Bevitore No 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 Ah ho sbagliato tasto Ho sbagliato tasto Ahia no 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 Con questo qua non va bene Ahia ma lo vedete Ahia che botte che ci tirano Eh che palle Ok tu occupi di quello stronzo Che io mi occupo di questo Ahia che botta Controtempo Tanto anche Bene 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 Senza scudo questo qua non fa nulla Dai dai attaccami Cosa cazzo è successo Ha successo con l'altro imbecille Che si è bloccato Oh S*** Aia, 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 aia Perché non si sveglia quell'altro? Oh, ti svegli? Come colpo di grazia? È morto Aia Posso uccidere lui, ma l'altro no, è troppo grosso Ok, no, ok, il colpo alla testa ci sta sempre Dai, dai Vai così Colpo in faccia Vai così Con una stoccata in faccia Aia, 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 no, ok Dai, 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 avvicinati Dai Ok Da quell'altro stronzo È andato Ah, peccato, è andato Allora Ragazzi Qua c'è parecchia roba Questo pane Questo mele Questo mele e questa miele Sì, sì, vai così Non ci credo Dov'è la sua spada? Spada da caccia Fammi vedere un attimo Per quell'altro lo dovevo ammazzare subito Peccato Qui invece Ti sei rotto proprio Poveraccio Mi dispiace Vabbè Eeeh Peccato Poteva andare meglio sto scontro E che quell'altro Se l'è data proprio parecchio Beh, fatemi vedere un attimo La spada da caccia Com'è Appena Ecco com'è Condizione 44 Ah, va bene Scarta Allora ragazzi Abbiamo preso Un po' di danni Non troppi Ma un po' Eeeh Come scontro Poteva andare meglio Mi dimentico sempre Della stoccata alla faccia Che Dopo un attacco La lasciano sempre scoperta Però Comunque Adesso dobbiamo andare Che Ok Dobbiamo andare al mulino Ci starebbe Sistemarci un attimo Eh però C'è 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 Andiamo Andiamo bello Andiamo Andiamo Dai 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 Allora Andiamo al mulino Alberi Anzi Sapete cosa ragazzotti Io mi sa Io mi sa che la termino qua Perché è da un po' Che sto Che sto registrando Quindi Allora Episodio bello pieno Ragazzi Siamo Riusciti a concludere Una missione Per iniziarne un'altra E come vi dico Piano piano Andiamo avanti Con le abilità Anzi Forse abbiamo sbloccato Pure qualcosa Sì Artebellica Vediamo un attimo Hai maggior possibilità Di far sanguinare Direi Flebotomo Hai maggior possibilità Di far sanguinare Il tuo avversario Comunque Dicevo Stiamo Finalmente salendo Un po' di livello Doviamo ancora cercare L'equipaggiamento giusto Ma Pian piano ce la faremo Direi che posso concludere Qua questo episodio Vi ringrazio per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento Ricendimi Cosa ne pensate Dell'episodio E come al solito Se avete dei consigli Soprattutto Per quanto riguarda Le skill Scusate L'abilità E l'equipaggiamento Se avete dei consigli Lasciatemi Nei commenti Io vi ringrazio ancora Per la visione Sono Gold E noi ci vediamo Al prossimo video Bye